Non si sa più nulla di lei da venerdì, quando attorno alle 22 avrebbe dovuto incontrare un'amica in piazza insurrezione a Padova. Da quel momento è scomparsa Isabella 90, 55enne, residente ad Albignasego, dove viveva con l'anziana madre. L'ultimo ad averla vista è il fidanzato padovano autotrasportatore di carburanti. Dopo una cena fra i due nella pizzeria Est 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 a Lyon, una frazione di Albignasego, l'uomo l'avrebbe accompagnata proprio in piazza insurrezione, dove lei avrebbe detto di dover incontrarsi di lì a breve con un'amica. In pizzeria i due sono stati visti da un amico comune, che ha asserito di averli visti molto tranquilli. A denunciarne la scomparsa il fratello della donna, Paolo, che non avendola vista rincasare venerdì, si è allarmato. Isabella lavorava da circa un mese in uno studio di un medico di base come segretaria e a detta del fratello mai si sarebbe allontanata dalla madre, che da tempo accudiva. Uno dei due cellulari di Isabella sarebbe a casa, spento. L'altro lo avrebbe avuto con sé al momento della sparizione, ma risulta irraggiungibile. Apparentemente non avrebbe avuto motivi che avrebbero potuto spingerla ad allontanarsi da casa. Sulla scomparsa sta indagando la divisione anticrimine della Questura e la squadra mobile.